Vivi bene e attrai il bene Ti sei mai chiesto come mai qualcuno ti sembra più fortunato e qualcuno ti sembra meno fortunato? E poi chiediti su quale metro misuri la fortuna? Io crescendo ho sentito dire da alcuni compagni di scuola quello è più fortunato perché è più alto, siccome mettevano persone della stessa età, nella stessa classe, non della stessa intelligenza, della stessa età, livellamento, uno magari aveva 12 anni ed era tanto così più alto di un altro. Dicevano guarda che fortuna quello è più alto, oppure ah che fortuna quello lì è una famiglia ricca, hanno la barca, la barca si intende non una barca di un metro o due, una barca di 10-20 metri. Io vivevo a Milano, sentivo questi discorsi, quelli sono fortunati perché hanno una villa al mare, quindi la parola bene era il senso di beni materiali. Noi siamo essere, io sono un essere umano, come fare sì che davanti alla parola essere c'è bene, passare da essere a ben essere. Quindi vivi bene, attrai il bene, ma quale bene? I veri beni sono quelli che nessuno ti può rubare. Sempre crescendo, ne sentite guarda, ah ma ha rubato la ragazza, rubato, cioè traduzione, quella stava con me, in generale i maschi che facevano questi discorsi, adesso sta con quella là, me l'ha rubata perché quello lì c'ha la moto. Ecco ho sentito anche frasi, io ho vissuto in un'Italia dove la moto è la macchina. Io ho deciso di non prendere mai la patente e di viaggiare sempre in compagnia, infatti non ho mai guidato e quindi non ho mai guidato da solo. Come minimo siamo in due, in tre, quattro è meglio. Allora, vivi bene, attrai il bene, è uno stile di vita, è l'essere, vivi, che porta al bene essere. Quindi il bene è qualcosa che nessuno ti può rubare, cioè fai in modo che nessuno possa turbare la tua pace mentale. La tua pace mentale è molto importante, ma perché è importante la pace mentale? Perché la pace mentale è la tua forza principale, è questa. E come arrivi a questa? A questa ci arrivi con questa. Quindi la sequenza è questa. Meditare fa molto bene e produce la pace mentale, quello è il vero bene. Tante volte io ho detto io sono ricco e qualcuno ha pensato ai soldi, giustamente. Poi ho detto sono ricco di idee, ricco di pensieri positivi, di emozioni positive, ricco di bei ricordi. Quella è ricchezza. Poi ho detto, ah sei ricco, ah beato te, eh ma beato te. Vivo bene e attrago il bene e quando faccio la doccia dico voglio che ogni negatività abbandone immediatamente il mio corpo e la mia mente. Quindi l'acqua, il battesimo con l'acqua, l'abluzione nel Gange, nei fiumi sacri. C'è chi fa, alcuni gruppi cristiani fanno il battesimo dove uno si immerge totalmente, altri invece qualche goccia sulla fronte. Non a caso qui c'è il terzo occhio sulla mente. Però l'idea è che vogliamo migliorare, vogliamo migliorare. Quindi perché uno fa il battesimo, no? Perché si lava? Per lavare i peccati. Allora io dico, quando fai la doccia, ripeti, con l'acqua che ti casca la nostra. Voglio che ogni negatività abbandoni immediatamente il mio corpo e la mia mente. Quindi dopo un po' di giorni che lo ripeti, vai in abitudine, come imparare una lingua straniera. Automaticamente quando fai la doccia, il tuo campo energetico lascia andare ogni negatività, sia fisica che mentale. Quindi non solo ti stai lavando, che va bene, ma ti stai anche purificando. Siamo d'accordo? Vivi bene, attrai il bene. Il vero bene non è in cassaforte, non è nelle porte blindate, non è nelle cassette di sicurezza della banca. Il vero bene è come vivi, essere benessere insieme, essere benessere. Ti auguro a te, essere vivente, di arrivare al benessere e ti ricordo che ripende dal tuo stile di vita. Se il tuo stile di vita spirituale, cioè comprende in ogni pensiero, emozione, parola, cibazione, corpo, mente e spirito, va bene. Ciao. Ciao.